carissimi carissimi se siete qui ci sarà un perché come cantava riccardo cocciante ed è perché stavate aspettando tutti quanti con ansia il mio video sulla società per sapere che cosa ne penso di tutta la questione relativa alla trattativa arno non arno fondi controfondi eccetera eccetera bene allora tra poco vi dirò la mia opinione definitiva definitiva naturalmente ad oggi ma nel frattempo siccome io lavoro per voi ieri se per voi un po piemontese ieri sera mi sono dedicato ad un'altra ricerca e cioè anche oggi carta canta perché ho deciso di darvi sempre le informazioni precise perché qua non si fa gossip non si fanno anticipazioni da insider da quattro soldi ma si danno semplicemente i fatti e allora ho fatto una ricerca ho fatto una ricerca sulla vicenda milan arno cessione eccetera eccetera con un po di date e un po di cose secondo me interessanti la parola chiave di tutta questa vicenda da quello che ho scoperto è lepre la leggo per così la dico giusta lepre allora partiamo con la cronistoria veloce e poi dopo arriviamo alle conclusioni tutta la storia tutta la vicenda arno milan comincia più o meno i primi di luglio esattamente 7 luglio quando repubblica parla di una trattativa per la cessione del milan fondo eliot che vi ricordo aveva già fatto un anno di gestione perché eliot subentrato young on lee nel 2018 quindi un anno dopo luglio 2019 repubblica parla di una trattativa tra un fondo catariota riconducibile probabilmente dalla famiglia altani e eliot per l'acquisto del milan e solleva delle possibilità di cessione anche ad altri personaggi poi scopriremo appunto che il riferimento è al gruppo di arno lo stesso fondo che avrebbe voluto acquistare la roma e che poi non l'ha fatto sappiamo che la roma passerà da un americano all'altro arrivano subito smentite da parte di eliot che dice noi non vogliamo vendere il 7 il 18 di luglio quindi una decina di giorni dopo il corriere dello sport parla rilanciato poi da ravezzani dei primi interessi di arno per il milan quindi i primi a dare questa notizia sono il corriere dello sport e ravezzani è già qua il 19 luglio quindi un giorno dopo altra smentita categorica anzi prima smentita categorica di arno e altra smentita di ediot che dice assolutamente noi terremo il milan almeno due anni quindi almeno fino al 2021 2021 data importante che poi ricorre il andiamo poi a settembre campagna acquisti estate amichevoli giampaolo tutto quanto non si parla più tanto di questa cosa si parla più dello stadio a settembre ritorna fuori la questione cessione società il 15 settembre il gruppo arno per una serie di voci apparsi sui media italiani smentisce il nuovo la trattativa e siamo già alla seconda smentita il 16 settembre esce un articolo molto 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 interessante a firma di carlo festa che dice quando escono delle voci sulla possibile cessione di una società è perché qualcuno sta realmente pensando al passaggio in società cioè cosa intende dire intende dire che quando cominciano a esserci delle voci che girano su una possibile vendita è perché chi vuole vendere ha interesse che ci siano queste notizie in giro per non lo so per una questione di prezzo per una questione di asta per qualsiasi cosa per far sapere che la società in vendita e dice un'altra cosa festa nel suo articolo manda avanti una lepre cioè manda avanti una notizia che poi viene ripresa da tutti quanti per far credere una cosa quando invece si va in un'altra direzione e questa è una cosa molto importante inoltre festa aggiunge che eliot venderebbe subito tra un'ora scrive addirittura se ci fosse qualcuno interessato a comprare ma non c'è tra l'altro 16 settembre si parla di 500 milioni di euro quindi poco rispetto poi alla valutazione successiva il 17 settembre repubblica ritorna sul suo articolo di luglio e parla che ci sono interessi da parte degli arabi o dei sauditi o degli emirati o dei catarioti insomma quella parte di mondo là niente non ci sono reazioni 28 settembre repubblica se ne esce con un altro articolo eliot tratta l'accessione al gruppo Louis Vuitton si chiude entro il 2019 arno a fretta a fare da 960 milioni di euro quindi dieci giorni prima festa diceva che non c'era nessuno che offriva 500 milioni poi a fine mese se ne offrono 960 sul piatto addirittura allegri in panchina tra l'altro allegri spesso allo stadio con galliani non so se vuol dire qualcosa comunque 28 settembre sera quindi di giorno esce l'articolo la sera arriva la smentita figlio di l'interno dice assolutamente a noi non interessa il milan e gli dice no dice il club non è in vendita quindi a ogni notizia di un possibile affare per la vendita del milan subito la smentita repubblica molto attivo su questo è molto attivo passiamo ottobre 9 ottobre cosa succede succede che c'è tutto il casino di gian paolo gian paolo deve essere esonerato eccetera eccetera qui entra in campo boban del campo boban che stando a quanto dice repubblica prende dalla sua maldini e dice adesso lasci stare gian paolo lo cambiamo prendiamo dato faso mi faso mi tant'è che anche adesso sembra che sia lui l'artefice di questa rivoluzione tra l'altro vi viene il sospetto ma ve la butto lì così proprio come non è che boban è uomo un po che ha a che fare anche con quelli che arriveranno non lo so 18 ottobre metà ottobre un rappresentante del fondo elio intervistato sulla vicenda dice vendere il club dopo la costruzione dello stadio assolutamente no quindi qui sposta in avanti il tempo e ci manda a data da destinarsi perché lo stadio sappiamo che però a quella volta si pensava che le cose andessero più spedite per la questione stadio mamma mia sembro quelle di report 30 ottobre fine mese di ottobre il giorno giulio mola autorevole firma del giorno scrive arnaud ha dato mandato alla banca di investimento inglese lazar col ruolo di advisor per acquistare il milan entro l'estate 2020 di quest'anno la trattativa è partita tra agosto e settembre quindi poi dopo sono arrivate tante smentite ma secondo lui la trattativa agosto settembre poi c'è stato un rallentamento dovuto a dei controlli alle voci di bilancio il 30 ottobre il portavoce di witton smentisce tutto dice non abbiamo nessun interesse per il milan arriviamo novembre il 15 novembre giuseppe cruciani alla zanzara dice milan arnaud a lui attenzione qua a lui e non al gruppo a lui a titolo personale con intermediario un ex presidente della federazione gioco calcio di fede interista sappiamo tutti carlo tavecchio intervistato tra l'altro di recente dove ha rilasciato una risposta proprio una supercazzola con la s maiuscola il giorno dopo notizia rilanciata tutti quanti tutto sport dice arnaud vuole il milan d'agospia di cetavecchio intermediario il giornale quello di giulio mola dice eliot venderà dopo lo che è dello stadio e qui cominciamo ad annusare un po la questione stadio vedete sempre centrale in tutta questa vicenda dopo lo stadio il milan sarà venuto per un miliardo addirittura il famoso miliardo non quello del signor bonaventura non jack che era un milione ma il famoso miliardo di berlusconi vediamo a dicembre 3 dicembre si aprono i mesi delle feste repubblica scrive eliot arnaud il tavolo riaperto quindi prima c'era c'era già un mandato per adesso si riapre il tavolo rilancio addirittura questa è una sparata clamorosa obiettivi messi e guardiola va beh ve lo dico giusto perché il figlio di arnaud frena e anche qui rimandi pericolosi a quello che è già stato vi ricordate quale presidente di una squadra di calcio gloriosa ha avuto i figli che spingevano affinché lui vendesse eccetera eccetera vi ricorda qualcosa a me no però se vi ricorda qualcosa ditemelo 8 dicembre eramo al 3 5 giorni dopo repubblica riprende un articolo di vogue america perché arnaud aveva comprato appena comprato tiffany 14 miliardi di euro di dollari di acquisto va a fare visita a una gioielleria negli stati uniti vogue fa un articolo e dice la stagione dello shopping per il gruppo potrebbe non essere finita sarebbe in trattativa anche per l'acquisto del milan ma il nodo cruciale sarebbe lo stadio ritorna alla questione stadio ci siamo quasi 23 dicembre momento importante articolo di marco bellinazzo il sole 24 ore giornalista serio giornalista affidabile o che comunque non è che ne spara tante è un giornalista economico che si occupa di calcio in un articolo di due giorni prima di natale molto dettagliato dice arnaud è una possibilità concreta ma il vincolo è lo stadio quindi anche lui sottolinea questa cosa ma e qui mette sul tavolo una carta inquietante più che mai ci sarebbe anche un soggetto italiano interessato all'acquisto del milan ora quando si parla ai soggetti italiani io faccio così perché mi vengono subito in mente le cordate ricordate mendes galliani tutta questa gente qua speriamo che non sia vero speriamo che non sia vero richiesta del fondo eliot 1 miliardo e 200 milioni offerta di arnaud 900 950 naturalmente balla a seconda che ci sia o meno lo stadio grosso modo 27 dicembre passato natale repubblica dice arnaud è in attesa di una risposta da singer perché arnaud ha fatto un'offerta da 975 milioni quindi diciamo a natale ha raccolto un po di denari e ci ha messo su altri 25 milioni di euro per acquistare il milan nel 2020 poi e siamo all'attualità praticamente 7 gennaio l'uscita di brambati di cui abbiamo già parlato il 9 gennaio portavoce del gruppo Louis Vuitton smentisce tutto mentre giulio mola torna alla carica perché la settimana scorsa 9 gennaio torna alla carica fase decisiva braida nostro ex ds intermediario la due diligence è fatta per chi non lo sapesse la due diligence sono quelle investigazioni diciamo che si fanno nel momento in cui si deve concludere un affare finanziario quindi tutte le verifiche del caso fatta arnaud acquisterebbe il tutto a titolo personale quindi si torna da cruciani vorrebbe ristrutturare san siro quindi non gli interessa costruire nuovo offre 700 800 milioni quindi ha perso di nuovo 150 milioni di euro nel frattempo contro il miliardo che chiede e poi il 12 gennaio siamo alla vicenda serafini allora come vedete come vedete e qui arriviamo alle conclusioni come vedete ce n'è di ogni ce n'è di ogni poi un giorno parleremo anche su come gli altri hanno concluso le loro trattative perché io sono andato a studiarmi anche i passaggi a pallotta ad esempio della roma su ning l'inter quello diciamo dato l'ira su ning è stato un pochino più travagliato ma nel momento in cui si è saputo che su ning avrebbe acquistato la maggioranza delle azioni dell'inter sono passati due mesi hanno chiuso tutto non è che sono andati avanti un anno con questo è stato quello quell'altro potrebbe ma no però poi dopo gran fill di capito cioè da noi c'è sempre il teatro vediamo le conclusioni se ne vado troppo lungo poi non so spero non vi siate già annoiati ma secondo me questa cosa interessante dunque le mie conclusioni sono le seguenti arnaud e il suo gruppo che poi a titolo personale o meno non ha importanza sarebbero la famosa lepre di cui parlava carlo festa la scorsa estate anzi a settembre abbiamo capito più o meno che tutta la questione danza attorno allo stadio cioè lo stadio è focale per tutta la faccenda se c'è lo stadio eliot chiederà un miliardo o un miliardo e duecento milioni senza lo stadio eliot dovrà fra virgolette accontentarsi di una cifra ragionevolmente indicata tra i 750 800 e 900 milioni che sono più o meno quelli che vi ho detto l'altro giorno cioè quelli che deve recuperare per guadagnarci da tutta questa vicenda adesso vi dico poi vi dico poi che questi sono le mie conclusioni naturalmente il milan è sicuramente in vendita milan in vendita secondo me dal primo giorno che eliot l'ha preso è un asset che al che eliot non interessa che si è trovato tra i piedi fra virgolette però c'è il grande ostacolo che nessuno offre quello che eliot vuole ed è un po la situazione di quando c'era berlusconi nessuno offriva quello che berlusconi chiedeva quindi sappiamo tutti poi che cosa è successo ognuno ha la sua idea ma sappiamo la questione stadio come dicevo è centrale perché eliot pensava che una volta fatte le proposte una volta più o meno accordatosi col comune le cose sarebbero andate avanti in maniera un pochino più spedita invece poi tutti i rallentamenti degli ultimi tempi hanno come dire rallentato anche la cessione oltretutto oltretutto non dimentichiamoci che anno dominis 2021 ci saranno le elezioni al comune di milano e questo un fattore non trascurabile ritorna sempre questo 2021 qualcuno ipotizza 2021 22 per l'accessione nel milano anche secondo me è abbastanza reale come idea veniamo ad arnaud arnaud secondo me non avrebbe nessun motivo ad acquistare il milano a titolo personale perché dovrebbe farlo titolo personale non ha mai investito nello sport più di tanto anzi per niente che io sappia non credo che abbia manie di grandeur non credo che debba entrare in politica non credo che debba veicolare attraverso il milano niente di personale quindi lo farebbe eventualmente a titolo cioè col gruppo col gruppo avrebbe un senso perché porterebbe a milano eventualmente discorso stadio eccetera poi anche solo stadio uno dice che vuole ristrutturare san siro uno costruire il polo commerciale vabbè quindi diciamo che le idee di giulio mole di cruciani non sono secondo me giuste eventualmente si potrebbe credere a bellinazzo e serafini che spingono sulla questione stadio perché poi alla fine collimano le idee no cioè dicono il nodo è lo stadio conclusione di tutto questo secondo me non sarà il gruppo di duiton a rilevare il milan questo perché ripeto voglio pensare che la teoria della lepre alla fine sia quella vincente e quindi avrei un po tutto da settembre già metterci l'anima in pace fatemi sapere che cosa questo vuol dire però che non si venderà è che gli ottenerà però non al gruppo di lui vitton fatemi sapere che cosa ne pensate scatenate l'inferno con i commenti mettete un like al video e noi ci sentiamo domani